Una crepa che parte dal pavimento del Ponte Vecchio e arriva direttamente al cuore dei bassanesi, dei veneti e di tutti. A pochi mesi dalla fine dei lavori a pochi giorni dall'inaugurazione ecco presentarsi già problemi di deterioramento delle lastre utilizzate per la pavimentazione e pensare che l'amministrazione comunale ha preferito l'agglomerato al legno anche per rendere il tutto più duraturo e ridurne l'usura. Ma la crepa è solo uno dei problemi. I bassanesi hanno infatti scoperto da poco che il pavimento del Ponte Vecchio può all'occorrenza o alla ricorrenza diventare maculato. E sì perché le macchie sulle lastre del corridoio centrale non si contano più. Una scoperta spiacevole sia per chi abita in città e sia per i tanti turisti che ci passano. La speranza è che non guardino a terra altrimenti sai che brutta figura. Forse per questo l'amministrazione comunale ha ornato il monumento nazionale con tante bandiere che rimarranno appese fino al 4 novembre. Qualcuno scherzandoci sopra consiglia di lasciarle lì per distrarre o distogliere lo sguardo dal degrado su cui si cammina. E allora il pensiero torna ai giorni di vigilia dell'inaugurazione. Accessi chiusi e grandi pulizie perché arrivavano le autorità, perché sfilavano gli alpini e perché le luci della ribalta erano tutte puntate sul ponte. Ma il ponte merita rispetto sempre, soprattutto da parte di chi governa la città.